In questa lezione andremo ad introdurre le strutture iterative del linguaggio andandone a vedere le caratteristiche principali e facendovi vedere alcuni esempi di utilizzo. Buona visione! In informatica si fa riferimento ad un ciclo quando una serie di istruzioni vengono espresse in forma sintetica attraverso un'iterazione. E' bene sapere anche che esistono due tipi ben distinti di cicli di iterazione. Esistono i tipi di iterazione a stato finito e i tipi di iterazione a stato infinito. Per stato finito si intende un ciclo nel quale viene specificato esplicitamente quanti iterazioni dovrà compiere prima di terminare, mentre per ciclo a stato infinito si rifà riferimento a cicli nei quali non viene specificata la quantità di iterazioni che dovranno eseguire prima di terminare. Ma tagliamo la testa al toro e guardiamo subito un esempio di utilizzo dei cicli iterativi. Nello script che ho preparato ho utilizzato tutte e tre le forme disponibili di ciclo base del linguaggio, ovvero il ciclo for, il ciclo while e il ciclo do while. Iniziamo col presentare il ciclo for. Il ciclo for probabilmente è il ciclo iterativo più utilizzato in assoluto. È un ciclo con controllo in testa. Un ciclo con controllo in testa è un ciclo nella quale ne vengono specificate le condizioni per l'appunto nella testa. La testa di un ciclo è la sua parte iniziale. Il ciclo for permette di instanziare al volo all'interno della sua testa una o più variabili, determinare la condizione di iterazione e aggiungere un'operazione post iterazione. Nell'esempio ho instanziato nella testa del ciclo for la variabile x al quale ho assegnato i valori 0, dopodiché quando vedete il punto e virgola è la fine di uno step, ovvero nel primo step si definisce uno o più variabili, nel secondo step si stabilisce la condizione che può essere semplice o complessa. Nel mio caso ho utilizzato una condizione semplice, ovvero fin tanto che x è inferiore di 10, nel terzo step si stabilisce l'operazione di post iterazione, io ho scelto di incrementare la variabile x utilizzando l'operatore di incremento più più, all'interno delle parentesi graffe stampo in output il valore della variabile x e poi eventualmente potete inserire altre istruzioni, però questo qui essendo un esempio era giusto per farvi capire il funzionamento del ciclo for. Passiamo al ciclo while, la differenza tra il ciclo for e il ciclo while sta nella possibilità di instanziare direttamente variabili all'interno della testa e operazioni di post incremento sempre all'interno della testa. Il ciclo while questo non lo permette, permette solamente di definire la condizione di iterazione. in questo caso ho all'inizio dello script creato una variabile chiamata i a cui ho segnato il valore 0, nel ciclo while ho definito la condizione che è fin tanto che i è inferiore di 10, stampami il valore di i e poi utilizzo a fine ciclo l'operazione di auto incremento più più. Alla fine una volta concluso il ciclo iterativo while risetto la variabile i al valore 0 per prepararvi a farvi vedere il prossimo esempio. Infine diamo un'occhiata al ciclo do while. Il ciclo do while è leggermente diverso dai cicli che vi ho mostrato in precedenza, poiché è un ciclo con controllo in coda. Un ciclo con controllo in coda prima esegue le istruzioni e solamente dopo verifica la condizione, mentre un ciclo con controllo in testa prima verifica la condizione e dopo esegue le istruzioni. Il construct do while prevede l'utilizzo della keyword do e successivamente l'apertura delle parentesi graffe dove poi andremo ad inserire le istruzioni da ripetere ad ogni iterazione. L'esempio che ho utilizzato per mostrarvi il funzionamento del ciclo do while non è nient'altro che il riarrangiamento dell'esempio che ho utilizzato per il ciclo while, in quanto stampo in output il contenuto della variabile i, dopodiché la incremento utilizzando l'operatore di post incremento. Infine ne definisco le condizioni di iterazione. A differenza del ciclo while che prima definisco le condizioni di iterazione e dopo eseguo le istruzioni. Ora, se vi chiedete qual è il ciclo migliore da utilizzare vi rispondo nessuno, poiché sono tutti e tre equivalenti. L'unica differenza è che magari in alcune situazioni potreste trovarvi più a vostro age o magari utilizzando il ciclo for piuttosto che il ciclo while o il ciclo do while. però sono tutti e tre equivalenti. L'esecuzione dello script ve lo dimostra in quanto, come vedete, l'output è il solito per tutti e tre i cicli. Ma guardiamo cosa succede dietro le quinte durante l'esecuzione di questi cicli. Nel ciclo for si crea la variabile x a cui si assegna il valore di partenza 0. Dopodiché si stampa il valore della variabile x che quindi sarà 0 poiché non è ancora stato incrementato. Dopo aver stampato il valore si incrementa e quindi x sarà uguale a 1. Si ripete il ciclo, si effettua il controllo sulla condizione, ovvero x inferiore di 10, x in questo caso è 1, 1 inferiore di 10 vero, quindi si ripete il ciclo e così via fin tanto che x non è uguale a 10 poiché 10 inferiore di 10 è falso e il ciclo esce. Infatti questi tipi di cicli sono anche detti cicli con uscita per falso poiché vengono interrotti quando la condizione restituisce false per l'appunto. Stessa cosa accade con il ciclo while, solamente che al posto di utilizzare la variabile x si utilizzano la variabile che ho instanziato all'inizio dello script, ovvero i. Quindi si esegue prima il controllo, ovvero i inferiore di 10, al primo giro i è uguale a 0, quindi vero, si stampa il valore di i, si incrementa i e infatti per prima cosa stampa a 0, dopodiché che è stato incrementato i sarà uguale a 1, quindi 1 inferiore di 10 vero e si ripete e così via anche qua fin tanto che i non è uguale a 10. In quel caso restituisce false e il ciclo termina. Leggermente diverso invece è il funzionamento del ciclo di while che per prima cosa si occupa di stampare il contenuto della variabile i e solamente dopo l'incremento di controllare se i è inferiore di 10. Questo cosa vuol dire che al primo giro i poteva essere uguale anche a 100. Vi porto un esempio, vediamo, questa variabile qua, di nuovo ho settato a 0 la variabile i dopo averla fatta utilizzare dal ciclo while per poi riutilizzarla nel ciclo do while e proporvi l'esempio. Se io dopo il ciclo while avessi settato la variabile i a 100 e poi avessi eseguito lo script, come vedete cosa succede? Che il ciclo do while stampa 100 e poi esce. Questo perché? Perché non esegue il controllo in testa, bensì in coda. Quindi per prima cosa stampa la variabile i così com'è, poi la incrementa e solamente dopo effettua il controllo. Prima di salutarci vi mostro un trabocchetto che potrebbe trarre in inganno chi proviene da altri linguaggi di programmazione come il C++. Nel C++ cosa succede? Quando si crea una variabile all'interno della testa di un ciclo for, la variabile è valida solamente all'interno del ciclo. Una volta concluso il ciclo la variabile è come se non fosse mai stata creata e si distrugge. mentre nel Perl non funziona così. Quando crei una variabile all'interno di un ciclo for, essa esiste anche fuori dal ciclo, così come potete vedere dall'esempio. Nell'esempio la variabile x che ho creato all'interno della testa del ciclo for viene riproposta anche una volta terminato il ciclo. Come potete vedere ho utilizzato questi trattini per delimitare la fine del ciclo. Il ciclo stampa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stampa la mia riga, dopodiché stampo la variabile x e di fatti stampa con successo il valore 10. Una cosa del genere in altri linguaggi di programmazione magari non sarebbe stata possibile. Quindi attenzione quando utilizzate variabili all'interno del ciclo for poiché esse persistono anche una volta terminato il ciclo. Io direi che anche per questa lezione è tutto e ci vediamo alla prossima.